L'evento calamitoso alluvionale del 18 ottobre scorso per i residenti della strada comunale incontrata a Don Guglielmo da ieri è soltanto un brutto ricordo. Grazie ai lavori realizzati in somma urgenza con i fondi messi a disposizione dall'assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione, Servizio Provinciale del Genio Civile, si è potuto ripristinare il transito sul torrente Loddiero. Grazie al progetto dei tecnici del Genio Civile, la ditta Pietropaolo Gambera ha concluso i lavori per un importo intorno a 200.000 euro. L'alvio del torrente, che la notte del 18 ottobre divenne un fiume in piena, è stato oggetto di importanti lavori che hanno riguardato la rimozione e l'asportazione di ceppaie, piante, vegetazione infestante, lo spurgo del corso d'acqua mediante scavo e rimozione dei detriti presenti in alvo, la risagomatura dell'alvio con adeguati mezzi meccanici, la ricostruzione degli argini secondo le sezioni e le tipologie esistenti. Il transito ai mezzi sarà garantito da una briglia, che in caso di esondazione permetterà alle acque di non trovare alcun ostacolo. I lavori hanno anche permesso di mettere definitivamente in sicurezza la condotta del gas, che è stata interrata di due metri, rimuovendo così ogni pericolo, oltre a spostare di qualche metro una condotta del Consorzio di Bonifica di Lentini. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Franco Barchitta, con gli assessori ed alcuni consiglieri comunali, il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Saverio Verde del Genio Civile, l'architetto Fiorella Blanco, vice dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Presenti anche numerosi cittadini, che hanno voluto partecipare all'apertura di una strada che mette fine così all'allungamento del percorso a cui sono stati costretti per questi mesi. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, che ha ringraziato i tecnici che hanno operato in continua collaborazione col Comune. Con la conclusione dei lavori in contrada Guglielmo sono già quattro le opere realizzate, Torrente Cava in prossimità del Cimitevo, Torrente Cava in prossimità del ponte di Contrada Mindonna, Torrente Cava in contrada Ponte Pollicino. Rimane da iniziare l'intervento in contrada Salto di Primavera, zona Grotta del Drago, mentre sono in direttura d'arrivo i lavori in corrispondenza del sottopasso ferroviario di Contrada Archie.